La vittima, proprio l'indagato principale dell'inchiesta Criminal Minds, il patron della Carnac, Marco Bianchini. 15 le denunce, col sequestro preventivo di beni mobili e immobili per 10 milioni di euro. Gli ideatori della truffa sono i più stretti collaboratori di Bianchini, Riccardo Ricciardi e Giovanni Pierani. Gli avevano fatto credere che il motivo per cui aveva perso un'importante commessa dalle pubbliche amministrazioni era perché chi aveva vinto sapeva come muoversi. Madura in lui la convinzione che si poteva aggiustare le gare di Alpo Alto versando somme di denaro nei confronti di determinati personaggi. Questo gli è stato fatto credere ovviamente dai suoi stretti collaboratori che l'hanno truffato sia attraverso la richiesta di denaro che secondo loro doveva andare a finire nelle mani di occulti intermediari che dovevano appunto condizionare le gare di appalto sia attraverso anche fasulle, commissioni di materiale di cancelleria nei confronti appunto di questi enti che in realtà sono risultati inesistenti. Bianchini era convinto di avere corrisposto materiale di cancelleria per ministeri, carabinieri, guardia di finanza, RAI e persino i servizi segreti. Il tutto grazie a intestazioni e timbri fasulli che accompagnavano i documenti delle commesse inesistenti. Documenti dove comparivano anche firme come quelle di Tronchetti, Provera o di Lucia annunziata per la RAI. Il contorno allestito era quello del sedicente Ordine di Malta, loggia massonica che faceva il verso all'ordine reale, ma che era solo un'accurata messa in scena con tanto di figuranti come gran maestri. Un ordine era stato assicurato a Bianchini, associato con tanto di cerimonia, in grado di influenzare inchieste e processi e figuranti. In altre occasioni si erano anche spacciati per agenti dei servizi segreti. Sempre nella realtà virtuale spacciata a Bianchini, sulla banca centrale di Malta c'era il conto corrente dove finivano i suoi soldi. Grazie a una rogatoria con San Marino sono stati sequestrati conti correnti anche sul Titano. Di fatto l'organizzazione criminale usufruiva, beneficiava sia del materiale che la Carnac o le società collegate alla Carnac che inviavano come commesse nei confronti di questi soggetti, sia beneficiava dei soldi in denaro in contante che Bianchini dava per corrompere determinati funzionari. Grazie a tutti.